signori se volete salutare questo è il momento d'atto perché siamo su opera omnia per la prima volta dopo che è stata annunciata la chiusura ufficiale di giorno 29 febbraio e come potete notare ci sono 677 mila banner che hanno praticamente la prima multi gratuita e oggi puliamo un po oggi puliamo un po anche perché vediamo qua come combinata la situazione è ok ci sono i vari banner e qui invece ok questi sono tutti quelli del 15 dell'uno e di type 0 ok quindi possono uscire tutte le bt tutte le robe eccetera eccetera e qui cosa abbiamo abbiamo i token o ragazzi abbiamo i token ld finalmente posso comprare l ld di lyle è finito il meme delle ld di lyle la posso comprare finalmente poi abbiamo gli fr token e i b a donne i bt 10 bt 2 che ne sono 80 c'è praticamente possiamo possiamo sciopare bt a gogo va bene vai cominciamo a goderci questa carrellata di pool dai una bt me la puoi dare compro la bt di eris prima prima devo accumulare i token devo devo accumulare salutate la community di opera omnia fate i vostri omaggi alla community di opera omnia che ci ha accompagnato per tutto questo tempo niente proprio sta multi free qua è andata una merda la potevano mettere una bt garantita ormai per ogni pool qua secondo me qui invece abbiamo final fantasy 2 e final fantasy 7 non faccio neanche il metodo giappino che tanto ormai non serve a nulla a minchia fr di tifa qua ho schippato perché la orb era azzurra in realtà attenzione orb viola e mi sa che la palestra non c'è in jp rido se esce la ld di lyle giocheremo a marbles no non credo non siamo abbastanza per giocare a marbles siamo troppo pochi siamo pochini marbles è bello se siamo tanti no c'è stinoa no però c'è veramente tutti ma non c'è stinoa che non l'ho maxata c'è stinoa la potremmo maxare ma non la maxerò vediamo se mi esce la ld di lyle madonna se mi esce la ld di lyle ragazzi è finito ecco gli arrivoli di slide vabbè tanto ormai ormai c'è gente che mi odia soltanto perché ho detto che un personaggio fa cagare rispetto a un altro quindi sinceramente ormai non me ne frega più niente c'è non me ne fregava neanche prima sinceramente però ora a maggior ragione allora non sto beccando niente comunque amici di opera omnia non vi dirò non piangete perché non tutte le lacrime sono un male gaio popop datemi la sua bt maledette coloni ore di gai bt op 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 ecco bom si è risvegliato però detto c'è stinoa si è risvegliato ma è una bt giusto per il content dai prendi con le gem come la fanno scioppare o astos che già c'avevo quindi alla fine cambia poco però astos così una bt boh dai una bt è uscita ciao la oa dopo è uscita incredibile oddio gai è quello di fan fantasy 2 morirà anche il meme di guy e si morirà il meme di guy anche se in realtà non morirà mai al cento per cento diciamo che muore ma non muore ricco vabbè ricco ricco già ormai è morto da anni bello strago niente una bt tra l'altro doppione niente il commissario rex e qui invece c'è il banner quello la dove ci sono tutti praticamente rimarrà il comando lo potrei togliere ormai il comando è perché non serve più a niente ormai lo potremmo togliere ormai è finito il meme ormai è morto il meme dobbiamo andare avanti mettiamo un eris così già così mettiamo spiedina ok ora in teoria a questo è quello giornaliero ok mentre invece poi in questo qua possiamo accumulare i togher perché sono condivisi tra di loro allora qui intanto mettiamo niente allora vediamo un attimo voglio vedere un attimo in giro cos'altro hanno messo quindi facciamo pausina ok cerchiamo di vedere cerchiamo di vedere cosa otteniamo qua da hop con questi 400 ticket ovviamente se prendo la bt mi fermo e andiamo e andiamo altrove ma tanto non succederà madonna che sofferenza buttare tutte le mie risorse dopo che ci sono stato anni per accumularle o attenzione niente fr di garland maio garland l'ho già maxato vabbè niente ld di reichin ld di hope questa musichetta c'è pensare che non la sentiremo più questa musichetta queste animazioni di pool che che non le vedremo più le orbi incazzate che non ci saranno più vediamo se avremo l'ultima gioia di avere i ticket che mi daranno qualcosa vediamo se la bt di hope oddio un'altra orb viola e fr di hope che già ce l'avevo quindi va bene allora da un lato però è bello perché tu sai di poter pullare in tranquillità senza diciamo senza senza problemi no e tu dici vabbè alla fine posso pullare il gioco chiude eccetera eccetera banner non ne usciranno più quindi posso maxare tutto quello che voglio posso fare tutto quello che mi interessa però ti rimane l'amaro in bocca no mai la musichetta non mi serve più la buona sorte ormai non mi serve più qua io qua appena non ottengo qualcosa scambio i g token e mi compro tutto quello che voglio con tutte le gemme che ho non sono riuscito ad arrivare al milione purtroppo non ce l'ho fatta oh no l'inventario pieno ok continuiamo ancora con questi ticket allora 10 ticket però me li lascio perché il simbolo il simbolo del ticket lo voglio lo voglio comunque mantenere cioè non mi va di vedere 500 gemme voglio voglio tenere il simbolo del ticket cioè questi 10 ticket glieli lascio al gioco glieli voglio regalare glieli voglio lasciare ok questi 10 ticket se li tiene il gioco se li tiene basta se li tiene allora andiamo invece qui e vediamo se troviamo qualche bt che magari ci interessa oh cos'era ah no la fr di nicos allora se c'è la orb incazzata un'altra volta desil ma piccolo golbez cucciolo allora abbiamo 400 con 400 cosa possiamo prendere allora io direi di prendere intanto 10 token ld perché così abbiamo l'ail in saccoccia abbiamo ld di lyle in saccoccia e poi ci prendiamo tutti i bt token per prendere le bt che mi mancano allora intanto facciamo così ok e ld di lyle adesso non mi può scappare poi qui quanti ne possiamo prendere 20 ok allora no aspetta andiamo indietro qua non ci puliamo più allora fan fantasy 3 8 e 10 no perché ce le ho quasi tutte 2 e 7 non c'è bisogno type 0 15 e 1 no 1 dove non c'ho tante bt dov'è ecco 9 e 12 e wof ecco questo è un altro banner dove non c'ho tanta roba no pensavo che con il lag potesse essere interessante invece no fr di cucia e tanto mi sa che non ce l'avevo la fr di cucia ok siamo arrivati a 500 gem e a 500 g token ok le possiamo prendere ecco perfetto ecco allora la prima bt che prendiamo oggi è quella di eris così finisce un meme lungo una vita ah sta caricando ecco qua allora eccola qua perfetto è un altro meme che dobbiamo chiudere del canale è che dopo sei anni finalmente riesco a prendere la ld di lyle che è praticamente l'unica ld del gioco che non ho mai avuto ce le ho tutte le ld del gioco e quella di lyle non l'ho mai avuta e ora finalmente ce l'ho quindi altro meme chiuso oggi chiudiamo tutti i meme del canale cioè io le ld ce le ho tutte cioè guardate io ce le ho tutte le ld per chi non mi crede io ce le ho tutte le ld del gioco perché ce le ho tutte mi sono uscite tutte fusoia ce l'ho anche però credo di averla venduta quindi ce la dovrei avere però è venduta quindi ma le altre ce le ho tutte ce le ho tutte ah no gau non ce l'ho neanche però gau gau credo di averla venduta però per sbaglio perché quella di gau ce l'avevo ma credo che l'ho venduta per sbaglio quella di gau o forse l'ho venduta poco fa mentre stavo facendo l'auto sell però non credo perché l'auto sell ti vende solo quelle di cui hai già maxato tutto quindi non penso no credo di averla venduta io per sbaglio ai tempi sì sì credo di averla venduta io per sbaglio ai tempi che poi per sbaglio oddio gau non l'ho mai usato quindi effettivamente ci sta il fatto che io non l'abbia che l'abbia venduta cioè ce le ho tutte ce le ho tutte le ld cioè ce le ho tutte quindi ora però finalmente possiamo concludere questo meme di lyle io voglio concluderlo con voi voglio concluderlo mentre sto registrando quest'ultimo video di opera omnia praticamente perché questo sarà il mio ultimo video di opera omnia non penso che ne farò altri perché ormai è finita e quindi ho il piacere di chiudere con voi finalmente questo meme abbiamo maxato le ld di lyle godo godo Grazie a tutti